benvenuti in questo video vi porto nella baia di manacore uno degli angoli più suggestivi del gargano a pochi chilometri da peschici se trovate interessante questo video e non volete perdervi i prossimi contenuti iscrivetevi gratuitamente al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti